Siamo giunti all'ottava edizione quest'anno, Vaghe Stelle dell'Orsa 2021, la rassegna di poesia e anche di musica che curo io per l'assessorato alla bellezza e per la biblioteca Bobbato di Pesaro. Quest'anno finalmente torniamo in presenza con le nostre tre serate. Partiamo mercoledì 7 luglio alle 21 sempre nel cortile dei musei civici, cortile di Palazzo Mosca, con tre poeti e un duo di musicisti. Quindi finiremo mercoledì 21 luglio, il secondo appuntamento invece sarà per un'eccezione giovedì 15 luglio, sempre alle 21, sempre nel cortile dei musei civici. Seconda edizione durante la pandemia, l'ho detto lei, la novità di quest'anno è il ritorno in presenza, che aspettative ci sono per quest'anno e per questa nuova edizione? Le aspettative sono le aspettative di tanti che stanno curando eventi culturali, non solo live, c'è questa voglia di ritornare in presenza. Abbiamo la possibilità quindi di avere non solo i poeti presenti, l'anno scorso erano online, ma di avere il pubblico tutta e tre le serate. Ci sono 40 sedute, perché questo consente per il luogo la legge, però speriamo di riempirle. Le aspettative sono di ricreare finalmente, come dice la parola inglese, live, un evento che sia vivo, vivace, dove la poesia possa essere ancora più d'impatto e così anche la musica. Ospiti e qualche anticipazione per le date di quest'anno? Allora, il mercoledì 7 luglio, quest'anno ho scelto di fare così, ci sono sempre tre poeti, ma i primi due presenteranno la loro poesia, mentre il terzo di ogni serata omaggerà un poeta, una poetessa famosa, di cui è bello fare risenti diversi. La prima serata ci saranno Alberto Bertoni, Francesca Serragnoli e Anna Toscano, che leggerà a Goliarda Sapienza. La seconda, che sarà giovedì, scusate, 15 luglio, ci saranno Matteo Fantuzzi, Paolo Loreto e Isabella Leardini, che leggerà Antonia Pozzi, quindi la poetessa famosa Antonia Pozzi. L'ultima serata, mercoledì 21 luglio, Valerio Grutt, Mary Barbara Tolusso e Massimiliano Bardotti, che insieme a me leggerà un gigante, leggeremo un gigante della poesia, che è Emily Dickinson. In chiusura, quindi, com'è possibile partecipare? Allora, chiaramente la partecipazione è gratuita, io credo che magari fare un colpo di telefono ai musei civici è una cosa buona, quindi evitare magari se c'è un eccessivo assembramento, ma speriamo insomma che queste 40 sedie riusciamo a riempirle. Voglio dire una cosa, che l'evento, abbiamo iniziato così l'anno scorso in piena pandemia, è possibile vederlo anche in diretta Facebook sul canale di Pesaro Musei. Mi lasci dire un'ultima cosa sui musicisti, abbiamo diversi musicisti per ogni serata, la prima serata abbiamo un duo di chitarra e sassofono, la seconda, giovedì 15 luglio, abbiamo un duo di violino e flauto, la terza abbiamo la grande fisarmonica di Raffaele D'Amen.